Ben ritrovati con Selfie di Famiglia. Oggi siamo a Padova, incontriamo una coppia Carlo e Patrizia che ci racconteranno la loro storia. Vediamo già sul tavolo tutti i ricordi di famiglia. Patrizia, partiamo allora con la foto del matrimonio. Giovanissimi, giovanissimi, quanti anni avevi tu? Io avevo 19 anni e Carlo 24, quindi ci siamo conosciuti due anni prima. E perché avete deciso di sposarvi? Perché io studiavo, lavoravo di giorno, studiavo di sera e avevamo poco tempo insieme da dedicarci. Se ci sposiamo magari abbiamo un po' più tempo anche la sera di convivere un po' insieme, però era un passaggio per noi importante il matrimonio e poi andare a convivere insieme, stare insieme, ecco. E quindi ci siamo dedicati, avevamo un piccolo spazietto. Si inizia con poco, vero? Si inizia con molto poco, ecco. Carlo, cosa ti ha colpito di Patrizia? Quando è che ti sei innamorato di lei? Quasi subito, per non dire subito. Io ero a casa di Patrizia perché ero in amicizia con suo fratello, eccetera. L'ho vista scendere dalle scale di casa sua e... Folgorato? È abbastanza, abbastanza. È andata proprio così, è andata proprio così. Non lo so quali siano le alchimie, però è andata proprio in questo modo, è andata proprio di... un po' di attenzione, un po' di corte, un po' di... C'era ancora il corteggiamento. Eh sì, il corteggiamento che è una fase bellissima, secondo me, in cui si è proprio sulle nuvole. Eh c'è proprio una bella romanza, sì. È così. Comunque è andata proprio in questo modo. Ma cos'è che ti colpisce in particolare del carattere di Patrizia? Patrizia ha... Allora io a quel tempo lì cercavo una ragazza intelligente e fuori dagli schemi. Lo schema era la ragazza appariscente, lo schema era la ragazza... Da far vedere agli altri. Ecco il termine, adesso era un po' così. Patrizia non lo era. Non lo era, a 16 anni già lavorava, quindi aveva già un suo atteggiamento. Una ragazza matura. Sì, era una ragazza matura e soprattutto con delle idee precisissime. I nostri scontri li abbiamo iniziati fin dall'inizio perché era mettere assieme proprio delle idee comuni. Di caratteri diversi. Ma era quello che mi piaceva. Era proprio quello che mi piaceva. Di confronto. Perché ho sempre desiderato avere in fianco una donna che mi fosse da supporto e non da appariscente, come dicevi tu prima. Ecco, questo è un po' sicuramente questo. E poi nel conoscersi, nell'approfondire, abbiamo visto tutte le cose che avevamo in comune nella visione della vita. Ecco, questo è stato... Patrizia, qui siete a Praglia. Perché avete deciso di sposarvi lì? Non eravamo così vicinissime alla chiesa, quindi... Però era tradizione. Ecco, nella propria parrocchia facevamo fatica a inserirci, a riconoscerci. Mentre una chiesa esterna, una abbazia, ci è sembrata, con dei frati, ci è sembrata un bellissimo posto da poter avvicinarci. Ecco, è stato questo un po' la scelta. È vero che i frati arrivano dove magari non arriva un po' la parrocchia. Un po' più l'accoglienza, un po' più l'intimità con loro, insomma. L'idea di quel tempo era di sposarsi in una chiesetta in cui dentro c'erano lo spazio per dieci persone, ma non ce l'hanno concessa. Ma diversamente, di solito, vero? Ma non ce l'hanno concessa, non ce l'hanno concessa. Mi contisci a vedere la semplicità del modo in cui eri vestita, cioè proprio una ragazza giovanissima. Ti sei pentita poi di esserti sposata così giovane? Mi sono forse pentita un po' di non aver continuato gli studi, quello sì, perché sono stati un pochino interrotti, perché anche questa è stata una scelta che ho fatto a quell'ora, a quel tempo lì, perché ho interrotto l'università. Perché sono arrivate le gravidanze. Perché sono arrivate le gravidanze, le figlie. Magari questo, ho detto, è rimasto un pochino sospeso, diciamo così, come sogno. Però la bellezza poi della maternità ha pienamente appagato tutte le mie aspettative. Poi ricominciare adesso a studiare? Posso ricominciare adesso, in terza età? Adesso che le ragazze sono grandi. Adesso mi portano i nipoti, quindi... Allora, Carlo, una vita matrimoniale normale, direi, con la nascita di queste figlie. Con la nascita di un figlio, però lo sappiamo, la moglie si dedica al figlio, per lo più. E quindi tu come ti sei sentito? Un po' messo da parte? Allora, c'è stata una fase iniziale in cui abbiamo condiviso le fatiche del crescere, dell'accudire, dell'accudire. E lì per me è stato un periodo molto bello. È stato un periodo molto bello. Quindi tu hai aiutato Patrizia, mi pare di capire, ti sei dato da fare. Era nel nostro modo, era nel nostro modo di vivere, cioè quello di... Cioè non si dormiva, dovevamo darci un percambio. Per poco di poco. Sì, c'è stato un inizio un po' difficoltoso, però poi Patrizia si aveva voluto suicidarsi nel volere anche le altre due. E pazienza, è andata così. No, bravissima lei, io lo dico sempre. È andato così. Poi la realtà è che nel tempo accadono delle altre cose, delle altre cose. Cambiano le dinamiche all'interno della famiglia, quando nascono i figli. Allora, prima di affrontare questo argomento, chiedo a Carla di portarci un caffè. Sì. Così ci rafforziamo un attimo nella nostra energia. E chiedo a Carlo, ecco, ti dicevo prima, con la nascita dei figli c'è il rischio che la moglie si dedichi a loro. Tu hai detto che anche tu eri coinvolto, però poi il rischio è che, insomma, l'attenzione per forza di cose viene un po' meno. E tu come l'hai vissuta questa cosa? Grazie per il caffè. Sì, sì, ma ci penso io. Grazie. Allora, piano piano c'è stato questo allontanamento più o meno inconsapevole. Nel senso che non è che accadono per cui uno prende la decisione e dice no, tu ti occupi delle figlie, io faccio un'altra cosa. ma la vita va un po' così. Il lavoro è stata un'altra componente importante per noi. Tu eri molto dedicato al lavoro. È così. È stata un'altra componente molto importante che in un modo o nell'altro mi portava fuori casa per periodi più o meno lunghi. Ma lei ti diceva che cerca di essere più presente a casa, torna prima. Lo dicevi, Patrizia? Ho avuto delle pretese che non andassi troppo all'estero perché... Beh, gliel'hai chiesto, giustamente. Questo sì. Ma le insidue sono talmente sottili nella quotidianità che ti portano proprio a non dialogare più. Quindi a non prendersi del tempo. Magari a tenere dentro le cose. A risolverle da soli, magari così. Poi se la sera lui torna tardi, non gli comunicavo quello che è successo durante il giorno, si va a dormire, cioè... Poi sei stanchi, uno magari accende la televisione. Ho stressato, lui è stressato del lavoro, io dalle figlie. Comunque, diciamo che noi le chiamiamo vite da scapole sposate perché si insinua così in maniera molto sottile e ti divide pian piano. Si fanno due vite parallele. Proprio così. Il difficile di quello che accade è il comprenderlo. Cioè, l'essere consapevole, il capire che sta succedendo questo. Esattamente, perché cosa accade? Se no si va avanti anche anni in questo modo. Siamo andati avanti tanti anni, non è così? È accaduto proprio questo, perché alla fine io dicevo, ma cosa sto facendo? Sto solo lavorando, no? Partivo la mattina alle sette, tornavo a casa alle otto di sera, forse qualche volta anche più tardi, ma in fin di conti era proprio un qualcosa che serviva per la mia famiglia. Certo. Quindi non è che... Patrizia giustamente dice, io mi dedico alla famiglia e cosa... Però poi le due vite lentamente, lentamente si allargano. E te ne accorgi quando è troppo tardi. È troppo tardi perché... Com'era il clima in casa, Patrizia? Il clima ha cominciato a diventare pesante dal momento che non condividevamo le scelte che facevano magari le figlie, le figlie adolescenti. Noi abbiamo avuto tanti passaggi che ci hanno creato divisione. Pian piano ho visto proprio la difficoltà di capirci, di condividere. È fondamentale poi quando soprattutto i figli sono adolescenti avere una certa unità anche di pensiero educativo perché... Le sue aspettative o la criticità nei miei confronti, nei confronti delle figlie, che io le difendevo invece, quindi ha portato a sempre più conflitti. La mia essenza da casa portava a che io non comprendessi quello che stava accadendo. Lei prendeva delle decisioni che una volta spiegate erano anche comprensibili, ma per me non lo erano. Quindi la reazione qual era, Carlo, di fronte a queste decisioni? C'è stato un momento in cui... Ho passato una fase in cui ho detto per fortuna che c'è a casa Patrizia che se ne occupa lei. Poi la realtà invece è che piano piano mi sono sentito praticamente escluso. Quello che accadeva in casa era l'esatto contrario di quello che io mi aspettavo. Stavi diventando un estraneo in pratica. Sì. E anche le scelte delle ragazze, le scelte sugli studi, le scelte non erano... Io non condividevo. E Patrizia, c'è un punto della vostra storia che mi ha colpito. Quando tu gli hai detto, Carlo, non voglio più invecchiare con te. Penso che questo sia stato come una freccia scagliata. È stato il culmine perché gli episodi di ira e di irascibilità sono stati molto forti. E non essere compreso, io non essere accogliente, ci avevamo portato proprio dei momenti di esplosione di ira. E in quel momento lì... Qualche piatto lanciato? Ma più urli. Quindi dico, aspetta, ci sono anche... Più a livello verbale. Sì, a livello verbale. Poi ho detto, aspetta, qui... Ho detto, aspetta, io vedendo le famiglie d'origine, che i papà erano un po' così e le mamme subivano, ho detto, però devo prenderevo essere coraggiosa e bloccarlo. Perché bisogna anche riconoscere che oltre il limite non si può più andare avanti. Quindi dico, io non voglio invecchiare... Cioè, io credo nella relazione sana e felice. E quindi stavamo avendo un momento veramente difficile di non comunicazione, ma anche e soprattutto non ci parlavamo più. E quindi dico... Carlo, in tutto questo uno dice, beh, ce la posso fare da solo, non ho bisogno di nessuno che mi aiuti. Che è la cosa più... la cosa sbagliata da dire, perché da soli non ce la si fa. È quello che è accaduto a noi, sì. È quello che è accaduto a noi, perché Patrizia ha tentato di coinvolgermi per parlare con un consulente, una psicologa, eccetera, eccetera. Ma io mi sono sempre rifiutato. Perché? Allora, prima di tutto io ero convinto che col crescere le ragazze poi Patrizia sarebbe tornata. Quindi le cose si sarebbero risolte col tempo. Sì, esattamente. Non sempre così, eh? Dovevo solo portare pazienza. Poi la realtà non è stata questa. La realtà è che poi sono subentrati i nipotini, sono subentrati i miei genitori da accudire. Da accudire. Da accudire. Quindi sono subentrati... I carichi sono aumentati in realtà. Quasi, sì. Sono aumentati, esattamente. Questo è quello che è accaduto e però io mi rifiutavo anche per altro, per un altro passaggio importante. Che dover andare a raccontare... Eh, le cose proprie, è difficile. È veramente difficile perché le problematiche di coppia sono un po' delicate. Delicate, ecco. Però Patrizia, voi puntavate su questo matrimonio, su questa... Volevate salvare. Mi pare di capire questo di fondo. Cioè era tutto l'impegno di dire, no, dobbiamo trovare una strada per poterne uscire. Perché io ero arrivata al punto di dire, ti lascio, ma perché era proprio come dire, ti ho nascossa. Certo. E altrimenti come facciamo a risolverlo questo... E qual è stato il punto di svolta? Ah, il punto di svolta? Io gli ho detto proprio questo. Gli ho messo proprio nell'angolo. O ti dà da fare, o trovi qualcosa, cioè, come dire, facciamo una psicoterapia insieme, vediamo come fare. E lui mi ha detto sì. E allora io mi sono rivolta a un'amica psicologa che mi ha consigliato poi questo metodo che è Retrovile. Ecco, Retrovile, che aiuta coppie ormai scoppiate, mi viene a dire così, ma proprio dove uno direbbe basta, dividetevi, è bella che è finita. E invece qual è stato il punto di svolta che vi ha veramente aiutato con questo metodo? Carlo? Allora, è un metodo che si basa... La prima cosa in assoluto è la comunicazione, il dialogo e l'ascolto. L'ascolto è efficace, perché l'ascolto con le orecchie che le cose passano... Uno direbbe la scoperta dell'acqua calda, questa. È la scoperta dell'acqua calda, però la realtà è questa. E poi è un linguaggio che fin da subito si basa sul trasmettere i sentimenti che uno prova. Questo è il vero passaggio. Che prima vanno riconosciuti, a volte uno li prova senza riconoscerli, i sentimenti. Giusti e sbagliati. E c'è un metodo però, cioè voi avete fatto un weekend, cosa avete fatto? Allora, nel weekend è un metodo che si basa su alcune fasi, perché poi alla fine non è sufficiente recuperare un matrimonio con qualche ora di istruzione. Comunque nel weekend che inizia il venerdì sera e termina la domenica pomeriggio, ci vengono gettate le basi per quello che poi sarà. Quindi le basi sono il principio che l'esperienza delle coppie che presentano... Questo weekend ci sono tre coppie e un sacerdote. Le coppie che presentano portano la loro storia e nel portare la loro esperienza trasmettono inevitabilmente il messaggio noi ce l'abbiamo fatta, ce la puoi fare anche tu. Che è fondamentale. Sì, è fondamentale perché non è un qualcuno che siede in cattedra e dice... Non è una teoria, è un'esperienza. Adesso ti spiego come si fa, come devi fare tu. No, l'atteggiamento è quello di noi abbiamo fatto questo e questi sono i risultati. Ecco, questo è un passaggio molto importante. Poi vengono gettate le basi per un po' di analisi sulla personalità propria, un po' di analisi sulla famiglia di origine. Ci sono delle metodiche particolari. Patrizia, voi state facendo 39 anni di matrimonio. A questo punto potevate essere divisi, divorziati? Assolutamente sì. Abbiamo recuperato grazie anche, non soltanto alla scoperta dei sentimenti, poi non dei sentimenti dell'altro, ma scopri soprattutto con il retroval quali sono i tuoi sentimenti, come puoi lavorare su di te. Perché esperienze sì, però devi anche andare incontro all'altro se vuoi recuperare. Cioè io prima, dico sempre, ero focalizzata nei suoi errori, in ciò che mi faceva. E quindi dico, ma Gesù gli dice, ma prendi la tua croce. Ho detto, no, lui è un dono, va riscoperto che è un aiuto per me. Quindi ho rivalutato un po' tutto e ci è voluto anche tanto impegno. E ci credo. Non soltanto dirsi i propri sentimenti, altrimenti finisci lì. No, ci vuole impegno dire, aspetta lì, posso cambiare io l'atteggiamento e tu lo stesso. Ma il fatto di aver recuperato il vostro matrimonio, la vostra famiglia, anche per le figlie. Voi avete tre bellissime figlie che faccio vedere. Sono queste tre splendide ragazze che vivevano tutta la tensione in casa. Il fatto di aver visto i genitori tornare uniti insieme, con una nuova consapevolezza. Cosa ha voluto dire per voi? È una grande gioia perché sono state le nostre sponsors da subito. Quindi dicevo, accendete il retro, va andate, andate. Tutto ciò che riguarda questo impegno che ci state mettendo, per noi è una garanzia che state camminando verso una gioia, ecco, una gioia di coppia. E trasmettiamo loro che le difficoltà nel matrimonio ci sono. I due sono già sposate. I due sono sposate. E l'altra è fuori casa. Sì. Le avete lasciate andare. Bisogna essere capaci di fare così. Dovevamo farlo, lasciarle anche un po' più libere, magari. Le abbiamo tenute molto vicine a noi. Brave anche loro, brave loro per costruirsi la propria vita. Perché se la sono costruita, quindi... Senza cordone ombelicale, con un giusto rapporto di... Un pochino rimane, magari, però un po' alla volta si lascia andare. Voi adesso siete coppia di espansione di Retrovile. Che cosa vuol dire? Io intanto voglio far vedere questo volantino, perché lasciamo anche dei numeri di riferimento. C'è un numero verde, solo da numero fisso. Poi metteremo in sovrimpressione gli altri numeri, che è 800-123-958. Noi abbiamo voluto fare questo incontro con voi, perché quando ci sentono tante coppie, che parliamo di chi ce l'ha fatta, riceviamo un sacco di telefonate per sapere dei riferimenti, un aiuto. Perché a volte è veramente difficile affrontare queste situazioni, vero Carlo? Sì, da soli non se ne esce. Cioè, da soli non se ne esce. Questa è una convinzione ormai che mi sono fatto. Ed era contro quello che il mio pensiero iniziale. No, perché le cose sono tantissime. Siamo purtroppo già in chiusura di questa trasmissione. Abbiamo raccontato veramente un po' della vostra famiglia. Adesso tra pochissimo facciamo i selfie di famiglia. Quello che capisco, però, è che ne valeva la pena anche di mettersi un po' a nudo, senza magari raccontare i dettagli, perché non c'è bisogno di andare nei dettagli, vero? Allora, è cambiato tutto. Nel senso che quella vita che noi sognavamo, in questo momento siamo riusciti a realizzarla. Ecco, questa è la vita che sognavamo da giovani e che l'abbiamo anche vissuta. Perché al mattino ti svegli e sei contento di avere in fianco, che non era quello che accadeva prima. Eh, ci credo. Non vedevi l'ora di andare fuori casa, magari. Uno si alzava per i fatti propri e facevamo collezioni di visi. Uno andava da una parte, uno andava dall'altra. Arrivava sera, fai tu la spesa, non fai tu la spesa, vai tu a prendere quella. Ecco, questo era il nostro colloquio. Non è così, non è così. Adesso ci scherziamo sopra. Adesso ci prendiamo un po' in giro. Ci prendiamo un po' in giro, che era quello, era una delle cose. Avete fatto un bel cammino. Sì. E noi ci auguriamo che... Ne vale la pena, ne vale la pena. Ecco, come dire, mi raccomando, coppie giovani, cercate di farcela. E anche, è vero, nel cammino per i fidanzati, è bene sapere tante cose. Non è tutto rose e fiori. Ecco, devono capire che non c'è una... Sì, non è sufficiente. Una romanza solo. Ecco, non è sufficiente l'innamoramento per mettere assieme una... Però si supera, ecco. Si supera ed è un bel cammino alla fine. Ed è un bel cammino. Alla fine, anche all'inizio, perché adesso si va avanti, ma facciamo il selfie con Patrizia e Carlo. Attenzione, avvicinatevi. Uno, due... Un attimo che dobbiamo mettere... Ecco, aspetta. E... Un attimo che dobbiamo mettere...